Eccoci di nuovo insieme, proseguiamo la nostra chiacchierata con Leon Krier e Gabriele Tagliaventi sulla città post-Covid. Iniziamo subito dando la parola al nostro direttore. Gabriele, ci senti? Vi sento, vi sento, vi vedo anche. Molto bene, a te la parola. Io penso che riprendendo il concetto di Leon sulla città, la walkable city, la città che si può camminare, che si può raggiungere a piedi in 10-15 minuti, penso che questo modello di città, la pandemia, abbia dimostrato essere ancora più efficiente oggi, perché tutti hanno scoperto come avere il negozio sotto casa, a 10 minuti di passeggiata dalla propria abitazione, è un grande lusso, è una cosa che rende la vita molto più facile. E quindi il sistema tradizionale della città, fatta di quartieri, fatta di piazze, fatta di una prossimità tra l'abitazione, il luogo di lavoro e il negozio, il luogo del commercio, penso che questo oggi abbia dimostrato essere non solo il modello di una città più sana, perché si può camminare a piedi, ma il Covid ha dimostrato anche che è il modello della città più sicura, perché non c'è bisogno di prendere delle metropolitane, dei tram, ma si può semplicemente camminare e andare a fare la spesa in maniera semplice nel negozio o nel mercato che sono nel proprio quartiere, a 5-10 minuti di distanza. Chiaro. Chiaro. Innanzitutto anche le nostre ricerche, i nostri studi stanno dimostrando in maniera piuttosto inequivocabile questo. In fondo anche l'esperienza italiana e le direttrici del contagio, a partire dall'area lombarda, dimostrano come questo sia avvenuto principalmente attraverso le più importanti vie di trasporto pubblico e come le città e le metropoli che hanno alti valori di densità abbiano avuto più problemi e quindi come le città fatte di partieri più equilibrati a misura d'uomo si siano senz'altro difese meglio, soprattutto se più distanti dai principali focolai. Approfittiamo di questa chiacchierata per sentire da Leon quali sono gli ultimi progetti a cui si sta dedicando e in particolare noi siamo curiosi di sapere qualcosa di un progetto meraviglioso di cui vediamo molte immagini anche in Italia che è Cajala. A te la parola Leon. Sì, perché io ho preso una posizione piuttosto di controsistema per 40-50 anni quasi che ho perso sistematicamente il mio lavoro o impegni in diversi paesi come quando facevo un libro sull'architettore di Albert Speer Storling diceva ma attenzione perché tu non avrai più lavoro in Germania ma non ho perso il lavoro in Germania ma in tutta l'Europa come nazista il problema è che non si può parlare apertamente di quello che si sente e che si vive e l'idea che per esempio se si parla di che i nazisti hanno costruito degli avioni, degli aerei molto belli nessuno ti accusa di essere un nazista o che Fernando von Braunfue era un grande ingegnere o che Guderian era un grande generale e perché Albert Speer non può essere un grande architetto? Perché era un criminale, è chiaro, non l'ho mai negato e la questione era al contrario la questione era un criminale importante può essere un grande artista? e sì ma adesso non si può non si può dire questo e l'ipocrisia che regna e se i sentimenti non contano più quando si deve pensare che posso dire su che cosa e che si perde la spontaneità dell'amore per le cose per le cose belle e così via e dunque ho perso in Italia perché ho fatto un gran progetto a Roma per Gianni Alemanno da quando sono morto in Italia prima di questo in 2011 prima in Italia ho avuto sempre lavoro lavoro, lavoro, lavoro quasi tutte le settimane ho pubblicato un articolo ho fatto mobili ho fatto progetti non so 60 progetti in Italia tutti ecco il progetto con Gabriele magnifico a Alessandria tutti gli altri sono disastri Firenze e Novoli è un disastro perché la nuova politica socialista va contro questo piano l'ho distrutto è un quartiere orribile e così perché ho avuto delle posizioni dipendenti si può solo permettersi se si ha una reputazione internazionale l'avevo abbastanza giovane e così quando non va bene in un paese va meglio in un altro poi ho avuto sempre grandi sostenitori in America e adesso studenti di America che hanno studiato che hanno anche lavorato con Gabriele mi hanno domandato di essere coinvolto con il progetto Pedro Godoy e Maria Sanchez di essere coinvolto con il progetto di Caelà che adesso si costruisce da quasi dieci anni e diviene la nuova Roma perché il modello principale di alta densità per costruire l'isolato tipo è l'isolato italiano molto esperimentato in Italia al giro del secolo 1900 a 1940 della palazzina romana ma anche queste palazzine si trovano dappertutto in Italia è un modello fantastico che era il primo esperimentato da Porta Lupi per un concorso a Milano e che adesso lo applichiamo e abbiamo pianificato più di cento di queste palazzine e la nuova cosa di queste palazzine è che non sono palazzi costruiti per affitto costruiti in un giardino come a Roma ma sono costruiti su un terreno comune con circolazione tutto attorno della palazzina dunque diviene un elemento della pietra fondamentale del tessuto urbano e funziona molto bene avrebbe funzionato molto bene a Torba la monaca ma questo non era possibile in un convento magari domani chissà domani chissà magari nel futuro sì sì no perché è un modello che costruiamo anche adesso a Poundbury in Inghilterra è un modello che funziona molto bene perché c'è anche per creare un'industria di scala minore di promotori minori o di costruttori minori invece di fare immensi palazzi immense zone di costruzione di avere un piccolo terreno per costruire una casa una palazzina per poche famiglie che sono anche molto più facili per gerire perché i grandi condomini sono disastri per gerire in lungo tempo sì qui abbiamo dieci massimo dodici parte del condominio e l'unica cosa che è differente qui è che la famiglia è proprietaria di questi immensi terreni infatti tutta la città diviene un progetto perché abbiamo delle densità che domandano due piani sotterranei di parcheggi e che sono tutti legati abbiamo sviluppato con Pedro e Maria un sistema veramente razionale perché quando si planifica parcheggi per un singolo palazzina è sempre molto difficile perché non si sa esattamente dove razionalmente mettere l'access dalla torre di scala e di ascensore abbiamo sviluppato un sistema modulare che è veramente molto efficace ma modulare solamente nell'organizzazione e razionalità del parcheggio ma quasi tutti gli edifici sono individualmente disegnati e sono reperibili come edificio unico grazie grazie molte le parole di Leon Gabriele mi servono un assist quasi perfetto io vorrei che tu ci dicessi qualcosa sul grande tema dell'architettura italiana in esilio che so esserti molto caro e che illustri sempre molto bene ai nostri studenti ma io penso che quello che Leon ha appena detto è un esempio l'Italia ha costruito un'architettura classica per più di 2000 anni 2500 anni e l'ha costruita non soltanto in Italia l'ha costruita nel Mediterraneo l'ha costruita in Crimea l'ha costruita in America nell'America del Nord nell'America del Sud quello che è successo negli ultimi 50 anni è un caso unico perché culturalmente la cultura dell'architettura italiana è completamente scomparsa si costruisce in Italia secondo dei modelli astratti che sono completamente differenti dalla tradizione dalla natura dal patrimonio direi dal DNA dell'italiano e della città italiana Cayala è un esempio fantastico di come questo modello possa funzionare ed è magnifico che funzioni funzioni in Guatemala ma significa che è tempo anche credo spero che sia tempo anche che questo modello torni a diventare l'esempio tutti i giorni per la costruzione dei nuovi quartieri delle nuove città italiane penso che sia arrivato il momento e Leon credo che sia arrivato il momento che l'architettura italiana torni a essere costruita anche in Italia è arrivato il momento è un momento patetico che si vede che l'Italia che era veramente il laboratorio dell'urbanismo dell'architettura attraverso non so 40 generazioni di diversi regimi di non so che sono si può di nostro punto di vista quasi tutti i regimi del passato sono criminali politicamente umanamente perché sono rassiste sono non so che ma hanno prodotto della grande architettura la corruzione politica morale nel passato sempre aveva bisogno della bella architettura adesso la corruzione politica non ha più riserve si presenta come corrotta anche nell'architettura l'architettura dell'Europa dell'Unione Europea a Bruxelles a Luxemburgo a Strasburgo è una cosa orrenda non c'è un solo edificio dell'Europa costruita dall'Europa di qualità era un solo edificio ma che era il primo palazzo di giustizia europea disegnato da un architetto lussemburghese con Semius in Belga che era come un templo di corone di corten ma era molto interessante influenzato molto da un progetto di Erosarinen per la John Deere Company ma era migliore che l'originale è stato distrutto da Dominique Perrault per costruire due grattacieli aurei e uno nero per la giustizia europea non si vede più l'edificio dunque e questo si immagina se il Parlamento il Senato a Roma l'Assemblea Nazionale a Parigi Westminster Palace tutti i grandi edifici che rappresentano adesso la politica come il Capitol a Washington sono rimpiazzati da un edificio fatto per l'Europa e la fine della politica del rispetto per la politica e così è questo potere adesso cieco che non si presenta più con scuse artistiche che è veramente un'architettura criminale che non può avere futuro perché è un'architettura solo di consumo che consuma ogni 20 anni si deve rifare tutto e buttare via il materiale è tutto basato su una filosofia infantile di novità quelli che conoscono il mercato che conoscono l'arte vedono che non c'è un solo edificio per l'Europa che presenta un segno di novità è tutta vecchia roba idee vecchie da 100 anni senza valore veramente io credo che gli edifici dell'Europa siano forse la rappresentazione del fallimento della Unione Europea sia un caso evidente di come questo livello di corruzione si sia trasferito dalla politica all'architettura l'architettura in questo caso è veramente l'immagine della crisi l'architettura è l'avanguardia 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 io vi debbo ringraziare moltissimo entrambi siamo arrivati abbondantemente oltre la fine anche del nostro secondo slot temporale il nostro interlocutore è prezioso e quindi fin da ora credo di poter rappresentare il desiderio di tanti invitiamo Leon ad altre conversazioni noi abbiamo tanti giovani che ci seguono e quindi sicuramente una delle chiacchierate che ci piacerebbe molto fare con lui in futuro è dedicata alla formazione dei nuovi dei neo architetti a me piacerebbe molto sentire cosa ne pensa lui che suggerimenti lui dà a chi si avvicina a questa professione meravigliosa ma non semplice in questi tempi io vi ringrazio moltissimo e ricordo a tutti i nostri follower che questa è la prima di una serie di interviste ne abbiamo altre in programma nelle prossime giornate seguiteci sul nostro canale e anche sulla nostra pagina social di Evision of Furo grazie ancora a Gabriele e a Leon grazie e spero che non sia l'ultima senza altro no grazie ancora a tutti grazie a tutti